Ciao Gossip News! Il primo singolo estratto dall'album in uscita tra pochi giorni è il provocatorio I Like Men Il primo singolo I Like Men Sì, mi piacciono gli uomini Quali uomini? No, ci piacciono gli uomini, tutti gli uomini, perché no? Però ci piacciono anche le donne E infatti nel brano accenni anche alle donne? Il brano gioca, gioca sia con le donne che con gli uomini L'amore è universale, ci piacciono sia le donne che gli uomini In questo caso nel brano forse un po' più le donne Grazie! Grazie!